Sicuramente Cardiff è stata una partita dove era la prima uscita a livello internazionale quindi ci aspettavamo di fare meglio di quello che poi è stata la partita però ci è servita Cardiff per capire dove eravamo e cosa dovevamo migliorare questa partita è stata una conferma del fatto che stiamo sviluppando un piano di gioco che è nelle nostre corde, che possiamo tranquillamente giocare e staranno a riprendere gli errori che abbiamo fatto contro la Francia per portarli contro la Scozia e giocarcela per la vittoria Sicuramente possiamo ripartire da quello che al momento è il nostro punto di forza cioè le mischie chiuse e anche i drive forse sul drive dobbiamo sistemare qualcosa ma abbiamo lavorato molto questa settimana, abbiamo messo un grande focus penso che ogni squadra gioca su quello che è il suo punto forte noi dobbiamo prendere i nostri punti forti e giocare molto lì e poi ovviamente lavorare punti deboli per esempio con il Galles il problema sono stati i vari punti d'incontro questa partita non ci sono stati così tanti problemi perché abbiamo lavorato la settimana sugli errori fatti cerchiamo quindi di riprendere tutto il buono e anche il cattivo di questa partita e riportarlo contro la Scozia